No, non morire, non morire E guardate che ferro muore in tre Fermo, ma blindando Non si può fare la cecchina da blindando Allora facciamo un super quiz come ragazzi Ragazzi, prima di vedere questa super vittoria Con la skin di livello 100 e vedere 26 kill Ragazzi, ho detto bene 26 Mi raccomando, inserite il codice ferro con un nuovo nel negozio oggetti Per supportarmi veramente al massimo Grazie mille a tutti, vi lascio al video Ragazzi, eccoci voi partite oggi, spaventeremo tutta la roba Con il super simbionte Spider-Man fortissimo di livello 100 Del pasmata, intanto questo deltaplano è veramente Vergognoso, ragazzi, cioè io dovrei spaventarla La gente, c'era un contizio rosa Con la lingua fuori che rideva Cosa è stranissima, comunque Allora, ragazzi, ci sta già una persona a me Fermi tutti Io c'è già un super pompa Adesso mi vengo a distruggere tutti Ok, ragazzi, l'ho spaventato L'ho spaventato, c'è rimasto malissimo No, l'ho alternato io col piccone Madai, ma se un ladro di kill Dovevo fare Ma no, scusa ferro, non volevo Tutto perfetto, avevo spaventato Mi ha rubato la kill, vergognoso, sei veramente vergognoso Comunque posso fargli un consiglio ferro Lo sentiamo Se tu mostri la faccia tipo alle persone Figati che si spaventa Ma no, ma tu, la tua faccia No, la mia, la mia è bellissima È vera questa cosa? Ma no, assolutamente no, ragazzi Non proviamo, per favore No, per favore Proviamo Vabbè, no, non proviamoci che non vuole Comunque adesso, ragazzi, io voglio fare la mia super mossa Infatti di spaventare Ah, ah, che spavento Vabbè, ragazzi Aspetta, non ti ho spaventato io Non puoi spaventarti dagli altri Sono io quello che spaventa qua Stai tranquillo, l'ho spaventato pure io questo Con la scheggironi, però Non è con la tua faccia, sicuri No Scusa Questa era brutta Questa era brutta Questa è veramente una bella battuta Comunque ci stanno altre persone, ragazzi Vi restate molto, molto attenti Stanno là sopra, eh Ucciso uno Bravo Ci stanno altre persone, però Venite venite da me È un team intero o sbaglio? Sì, sì, sì Forse anche più di un team Ragazzi, però io vorrei la bella mitraglietta Quella che tipo si vede al mirino ottico Qualcosa del genere È, assolutamente non ce l'ho io Assolutamente io non ho appena fatto una kick con quella Assolutamente no Ok, sì, dai Faccio finta che non sia successo nulla in realtà Anche se qualcosa è successo, eh E non me lo puoi nascondere così tanto Comunque Altre persone, ragazzi Altre persone davanti a noi Quindi si riva Si riva, ragazzi Andare, andare, andare Vai Vediamo nella barca a casa Nella casa con la barca No Penso che qua non ci sia No, no, no Persone ci sono, te lo assicuro Ecco, ecco, ecco Ecco Stai attento Ma se questo posto Mi ricordo Qua, la cosa Ah, ti devo aiutare Capito 22 Io Io ho pure gracchato Ma non servi proprio a nulla Ai a questa guarda Ma meno Perdo Con il penso Io signori Ad curarmi Muoviti Best, best, best Viene curarmi Faccio un attimo Che sto facendo signori Eccomi, eccomi, eccomi No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, no, no Ma com'è Come hai fatto a farci Egli sei arrivato da dietro Neanche ti sei girato E ti sei sparato Scusami Ah, 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 ah Cioè E vabbè, perché Frate ha avuto paura di me Questa volta L'ho spaventato io No, tu Va bene Facciamo finta di nulla Vabbè Andiamo a spaventare altre persone Dato che qua Purtroppo siamo solo riusciti Ma con la faccia di paura Allora ragazzi È il momento Ora è il vero momento Di andare a spaventare tutti Purtroppo non ci siamo riusciti In la prima partita Anche se Abbiamo la skill livello centro Non dovremmo farsene In realtà Quindi Un po' strana come cosa Ragazzi in lama È il primo che trova In questa season Vai 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 Stringentelo Mi prendo tutte le cose L'abbiamo investito Ragazzi C'è rimasto male Poverello Non rubo io Ti prendo tutti i mazze Vergognosi Non ho preso nulla Ragazzi mi sparano Ci sono persone qua Oddio Porca vacca Boom Ok Mi hanno laceratissimo Regà Boom Craccato uno Mamma mia No Piramidato Mi arriva un'altra Ragazzi No Così Arrivo Arrivo Ancora Ragazzi Sono fortissimo Solvei e più forte In tutta Italia Penso L'Italia Venti Uno dietro Ragazzi State Un altro C'è ferro No 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 Sto vedendo Best Ok Morto Quanto sono forti Io best Comunque Raga Ma voi sapete Parlare Su Porca Dite Ne ho ucciso Uno Era full Questo Praticamente Full Morto Stessa roba Più o meno Vabbè Facciamo finta Che non sia successo Nulla Ragazzi Nel frattempo Che è morto Best Vorrei dirvi Che abbiamo 11 kg Di squadra E quindi È una cosa Molto buona Perché Stiamo Spaventando La lobby Anche se Non abbiamo Uncora Le 20.000 Dobbiamo Farle Per forza Per uscire Ma ce la faremo Easy ferro Non sarei così Certo Anche perché Io Aia Aia Per male Però Non faccio danno Lui si invece Ok Buonissimo Perro Personaggio Schifosissimo C'è Attento Attento Ok Vai bene Brava Posto Posto Siamo liberi Puoi uscire Da qua Ok Aiuto Vai Po' di bianco 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 Non tantissimo Non tantissimo È proprio quello Come cato Io Intredibile Ok Ok Viamo Una bianchissima Una bianchissima Una bianchissima Una bianchissima Per ora Poi Non è vero Non è vero Quello Che spavento Che cosa c'è Ok Non morire Farò morire Non morire Ok Non ci sono Ucciso 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 Po' di bianco Non ci sono Travissimo L'ultimo Dovebbe Sotto Di me Sotto Di me Sotto Di me Questo Pomba qua Non fa danno È impressionante In realtà È mio preferito Però non insultare È proprio Il pompa Dei napoli Quelli che non fanno Dai Non so Non Mi Direi Allora ragazzi Come vedete qua Curando in due Si può aumentare La velocità Ed è una cosa Fighissima Sinceramente In più si è creato rift strano che vi direi che no era praticamente di attorno in vita signori ai beliva che un fly che best si può già un belico subito no 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 tranquillo comunque ragazzi vi devo dire che abbiamo 14 15 e lui ha una vita era attissio ma non è vero fatto tutto io me l'hai veramente rubata se la persona orrenda un'altra chi rubata sono ragazzi c'è spuglio sono mi sa sono mega forti lega lo sappiamo comunque ragazzi sappiate che abbiamo 16 kill di squadre dobbiamo arrivare ragazzi quel titolo di vita questo qua che sta curando spammate spammate vedi the white ancora meno di uno di vita ma gli amo a questi bambi lancerano se io provo ad andarci ok non si tratta a 50 158 cittadini morirci a poco attento che tranquilla stai tra mi muoio io puntualmente signori incredibile è questa cosa o il divertimento storia comunque uno l'ho ucciso e ne manca mi sembra solo uno che è stato detto hanno chi la sua best ha nominato sta salendo che per la serata non c'è l'ucido no non ci posso credere ok ma buonissimo io non ho parole ragazzi ho fatto circa 180 al primo questo qua l'ho craccato gli ho fatto tipo 60 bianco non so più che fare scusatemi perché le persone ragazze 19 chi per il simbionte ferro la sua scuola anche se in realtà è un po più foo al simbionte di oggi cioè di quello che fa paura quanto pare c'è al solito di chi ci sta un'altra persona la cittadina donna non era città della vita ragazzi dobbiamo far per forza la ventesima kill dobbiamo per forza farla ventesima chi sarebbe un qualcosa sul di dato a ma se te che mi stavi sparando comunque no ma non sto sparando a testa di mi sembrava strano mi sono detto vabbè senti dobbiamo andare a pushare perché voglio fare la ventesima chi a meno quella lascia me la farà me signor c'è proprio a me va bene solo quella però solo quelle le altre me le faccio io va bene va bene accetto accetto allora primi tutti però dove stanno danno la sopra sono qua sotto sto box vai tranquillo che adesso li andiamo a push a subito o porca vacca ci stanno un po di più di una persona e basta dobbiamo anche andare in safe allora non si parla di non sparare non sparare che se fai la chi se non siamo messi male allora scusa e allora come faccio mi ragazzi la trentesima kill però l'ha lasciata a me vi prego è trentesima perché questo traccato arriveremo più no non dimmi che l'hanno no sì l'ho ucciso l'ho ucciso ha messo terra fermi tutti per i tutti e aveva pure la corona è davvero ok ho ucciso un altro c'è un altro buona questo è stata la corona forse va bene lo so se quelli con nome oro non lo corone ok no questo allora non ci aveva ci stanno altre persone qua davanti comunque qua 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 lo distrutto che è molto bravissimo perché non è un altro cosa ma noi scusami quanto stiamo spaventando con la mia schiena abbiamo usato di chi le ragazze non è rubata un corno perché l'ho cecchinato quindi comunque gli ho fatto 100 e gli ho fatto in caso più penso del danno che gli hai fatto se quindi non è rubato io l'ho fatto tipo duecento di da 200 e non l'hai ucciso veramente complimenti pura tela matematica di situazione in alto è questa volta che stavolta con l'ho ucciso lui è fatto forse venti o altre persone arrivo 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 come cechinato e papà papà let's go ucciso un altro ucciso un altro ragazzi mancano solo per i tutti i 30 kg ci ha cecchinato la vita no non ci arriviamo forse lo blindo lo blindo no non morire non morire ma fermo ma blindando non si può fare la cecchina da blindando allora facciamo per cui scopo ragazzi e si va a vincere la skin con la schiena livello già ci va a vincere la partita con la skin livello 100 del pass battaglia il spider man simbionte ragazzi e c'è anche da sottolineare con 26 kg quindi ragazzi 26 kg con l'ultima skin del pass battaglia ovvero spider man simbionte veramente fighissima io direi che è giusto per questo super video lasciate un bel pollicino in su iscrivetevi al canale se ancora avete fatto passate pure dal canale dei miei amici qua sotto in descrizione e oltre a questo codice creatore ferro con una o nei negozi oggetti per supportarmi veramente al massimo grazie a tutti vi lascio al prossimo video ciao ragazzi ciao ciao